La formazione professionale Schindler è un centro di eccellenza per apprendisti tecnici e commerciali. Presso la nostra sede centrale di Ebicon e nelle filiali, formiamo circa 300 apprendisti in 12 professioni diverse. La rotazione del personale ti permette di maturare esperienza in diverse divisioni e di conoscere il tuo lavoro da più prospettive. Mi chiamo Marjanek Milos, ho un anno e entro nella quattro anno della formazione di Schindler. Per tutta la durata dell'apprendistato puoi contare sull'Associazione Apprendisti Schindler e su un team dinamico che ti supporta e affianca. Lo che è interessante di Schindler è che se siamo ben motivati, possiamo avere un lavoro alla fine. Grazie a tutti.